Buonasera Buonasera per ritrovare l'appuntamento con i fatti e le opinioni, questa settimana parliamo di economia, in particolare di imprese e soprattutto dei modelli di sviluppo economico all'insegna della sostenibilità per le imprese che vivono sul territorio abruzzese e anche molisano. L'occasione è arrivata dall'evento dello scorso 13 aprile alla Palabecci di Pescara promosso da PwC Italia e da una serie di partner per rendere nota la graduatoria delle top 200 imprese di Abruzzo e Molise, così come avviene in altre regioni italiane, alla presenza, visto anche il tema della sostenibilità di impresa, di un personaggio davvero straordinario di spessore internazionale come Brunello Cucinelli che ha deciso anche di insediarsi nella nostra regione. Una giornata importante di cui tiriamo le somme riproponendo i materiali per i nostri telespettatori grazie al contributo e alla disponibilità di PwC Italia, in particolare la Stefano Micone che è qui nei nostri studi per commentare insieme l'esito di questa giornata. Buonasera Micone Buonasera direttore e grazie dell'invito Allora, è un evento che ha avuto intanto un grandissimo successo di partecipazione perché sono stati posti in piedi, sono arrivati per l'importanza della manifestazione, altri un po' anche per la curiosità di sentire Brunello Cucinelli, però è stato uno di quegli eventi che rimangono nella storia, io penso, anche della vostra attività. Vogliamo un attimo ricordare anche nel rendere noti chi sono i protagonisti perché ovviamente noi manderemo soltanto un paio di contributi ma ci sono stati molti partner che hanno contribuito alla riuscita di questa manifestazione. Assolutamente, è stato un evento che ha riscosso grande successo, forse anche oltre le nostre aspettative, noi eravamo alla seconda edizione del Top 200 Abruzzo e Molise, ricordo che è un evento che proponiamo da tanti anni in tante città d'Italia dove PwC è presente. L'obiettivo di questa giornata, di questo evento è quello da parte nostra di essere vicini alle nostre imprese, noi siamo una multinazionale ma siamo italiani e siamo sostanzialmente del territorio perché in Italia siamo presenti un po' in tutte le regioni o in tutte le aree geografiche. In tante altre, come ricordava lei, in tante altre città, siamo già alla quindicesima, sedicesima edizione, questa per noi era la seconda, è un evento che realizziamo in collaborazione con l'Università Gabriele D'Annunzio, con partner media, il centro, che ci aiuta poi a distribuire un po' il giorno dopo anche quelli che sono stati i principali risultati dell'analisi del territorio e poi sempre con il riconoscimento dell'ordine dottori commercialisti, anche di Andaf quest'anno che è l'associazione nazionale dei direttori amministrativi e finanziari e anche con Confindustria. L'obiettivo non è quello di costituire una mera classifica delle prime 200 aziende che poi sono definite in base al valore della produzione, ma poi sono altri gli indicatori di performance che vengono valutati, quali appunto la redditività e soprattutto anche l'indebitamento, la cosiddetta posizione finanziaria netta. L'obiettivo non è quello di dare un premio a chi è primo di questa classifica o secondo, anzi l'auspicio è che chi ricopre le ultime posizioni possa continuare a crescere per arrivare alle prime posizioni, così come l'auspicio è che tante aziende che non sono tra le prime 200 lo possono diventare, perché vuol dire che il territorio sta crescendo. L'obiettivo è quello invece di analizzare i risultati complessivi che queste aziende hanno avuto rispetto all'esercizio precedente, capire tutti insieme come il nostro territorio dell'Abruzzo e del Molise sta evolvendo rispetto a quelli che sono i fenomeni macroeconomici globali, che ormai stanno impattando la nostra economia, soprattutto da dopo la pandemia, e anche rappresentare questo evento un momento di incontro per tutti gli imprenditori e per tutti gli operatori del settore, banche, professionisti, direttori d'azienda, per discutere tutti insieme, incontrarci e fare sistema per far crescere il nostro territorio. Sì, ovviamente la curiosità c'è sempre, quindi richiedo chi è che si è classificato al primo posto, nei primi posti. Allora, al primo posto quest'anno si è classificata la Fater, società azienda multinazionale di proprietà del gruppo Angelini e di Procter & Gamble, è una Gen Venture conosciutissima in Abruzzo e anche nel Molise, è una realtà che continua a progredire ogni anno, è una realtà sostanzialmente che pur avendo una visione multinazionale è molto radicata sul territorio e opera quotidianamente con delle politiche che sono pienamente nel solco della sostenibilità. Poi altro aspetto importante è che il nostro territorio rimane ancora un territorio molto attrattivo, lei ricordava di Brunello Cucinelli che ha fatto questo investimento importante a Penne, perché Penne? Perché Penne lo dice lui che logicamente ha maggiore visibilità, ma Penne rappresenta un distretto manifatturiero tra i più importanti d'Italia, lui l'ha definita la Maranello del Capospalla. E quindi la presenza massiccia di competenze dal punto di vista del lavoro ha attirato sicuramente i loro investimenti. Ma ci sono altre realtà, faccio riferimento al gruppo Acqua e Sapone che è stato oggetto di un'acquisizione da parte di un fondo, però questa società anziché andare via dall'Abruzzo ha messo base in Abruzzo per un'ulteriore crescita, quindi è una realtà oggi molto più grande di quella che era prima e che sta dando un valore aggiunto al nostro territorio in termini anche di managerialità che vengono a lavorare da noi. Bene, allora questo diciamo, voglio dire un po' il senso di un evento che avrete capito non è un premio perché non sono stati consegnati i premi, ma è soltanto un'occasione soprattutto di fare il check up sullo stato di salute delle aziende che sono a loro volta il termometro di un'economia di un territorio. A fare questo è stata, ricordavamo la collaborazione con l'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, il professor Francesco De Luca, ordinario dell'economia aziendale dell'Università D'Annunzio, insieme anche alla sua collega che poi è anche la presidente del Dipartimento di Economia dell'Università D'Annunzio di Pescara, ha illustrato l'esito di una ricerca, una ricerca che voi commissionate annualmente rispetto a una serie di domande alle quali appunto si hanno delle risposte molto interessanti. Io direi, amicone, se vogliamo sentire l'intervento del professor De Luca che poi ci consentirà anche di fare qualche commento. Primo contributo con De Luca, poi naturalmente sentiremo anche Cucinelli. Bene, buongiorno a tutti, mi unisco anch'io ovviamente ai ringraziamenti a PwC per aver organizzato questo evento, per aver scelto la collaborazione con il nostro Dipartimento di Economia aziendale dell'Università D'Annunzio per il supporto scientifico a questa iniziativa. E devo evidentemente anche confermare quello che poco fa diceva la collega direttrice, la professoressa Migliori, rispetto alla difficoltà nel rappresentare questi risultati. A me oggi tocca evidentemente un compito in grado perché devo provare a condensare in pochissimo tempo i risultati di questa analisi che ha riguardato evidentemente 200 aziende con l'aggravante, come si diceva poco fa, che pochi numeri non possono certamente rappresentare quello che è il valore delle aziende che sono appunto inserite in questa valutazione. Proverò a farlo, proverò a farlo partendo sicuramente dai numeri, ma proverò anche a portare un contributo di tipo interpretativo, di tipo prospettico rispetto a quello che è il contesto che circonda queste aziende, che sono oggetto di analisi e quelle che potrebbero essere le sfide che ci attendono per il prossimo futuro. Ebbene, se partiamo evidentemente dalla raffigurazione dei dati, dati di sintesi, dati aggregati, troviamo un risultato estremamente soddisfacente perché vediamo che il valore complessivo della produzione delle prime 200 aziende di Abruzzo e Molise ha raggiunto i 24 miliardi di euro e questo valore peraltro, si riferisce all'esercizio come sapete 2022, ma è un valore che è nettamente incrementato rispetto a quello 2021 perché c'è un incremento appunto sul valore della produzione complessivo del 23%. Questo ci ha rasserenato dal punto di vista di quello che poteva essere un timore rispetto all'indomani degli effetti negativi della pandemia. È chiaro che dopo la pandemia, mi riferisco a quanto ho detto su questo palco un anno fa, c'è stata una forte ripresa, l'anno 2021 ha rappresentato l'anno della ripresa e si temeva che come avviene spesso in queste situazioni, dopo una forte ripresa ci fosse il cosiddetto effetto rimbalzo, quindi invece una inversione di tendenza verso valori negativi. Invece questo non c'è stato e questo ovviamente rappresenta un elemento positivo visto che la crescita è stata del 23% e le stesse considerazioni positive le possiamo fare anche sul numero delle aziende, la percentuale delle aziende che ha visto crescere il proprio valore della produzione, l'87% del campione, quelle che hanno chiuso il loro esercizio 2022 con un risultato economico positivo, il 92% e quelle che l'hanno visto crescere rispetto all'esercizio precedente, parliamo sempre del risultato economico, che sono il 67%. Entrando ancora un po' di più nel merito dei numeri troviamo la rappresentazione dei principali indicatori di performance dell'azienda, in particolare la grandezza che è stato oggetto di analisi, come sapete meglio di me, è l'EBITDA. EBITDA è una grandezza che ci consente di avere una visione che contemporaneamente riguarda sia l'aspetto economico, quindi la redditività aziendale, e sia l'aspetto finanziario, in quanto rappresenta sostanzialmente la variazione del capitale circolante netto per effetto della gestione caratteristica. E quindi abbiamo anche qui risultati del tutto soddisfacenti, 2 miliardi e mezzo di EBITDA aggregato e contemporaneamente un più 20% di questo valore rispetto ai dati 2021. Le aziende con EBITDA in crescita sono il 72%, il rapporto EBITDA, volume e valore della produzione, è anch'esso indicatore importante della capacità delle aziende di mantenere l'equilibrio nel tempo, obiettivo evidentemente fondamentale, quindi il margine EBITDA, valore medio aggregato 11% in crescita di un punto percentuale rispetto al 2021. Le aziende che hanno contemporaneamente sia il margine EBITDA in crescita che il valore della produzione sono il 66%. Se andiamo a guardare invece l'utilizzo, la destinazione del risultato di esercizio, notiamo che con un utile aggregato 2022 di 1 miliardo e 2, di oltre 1 miliardo e 2, il 92% delle aziende che hanno utile l'abbiamo già detto, notiamo anche che c'è una elevatissima percentuale di aziende che ha reinvestito gli utili, cosa che abbiamo rilevato evidentemente osservando l'andamento del patrimonio netto, il patrimonio netto dell'81% delle aziende rispetto all'esercizio precedente è cresciuto e questo ha dimostrato evidentemente un mantenimento nelle aziende delle risorse economiche generate per effetto della gestione. L'utile è comunque cresciuto anche rispetto all'anno precedente e questo quindi ancora una volta ci consente una rappresentazione positiva della situazione che abbiamo fin qui visto da un punto di vista economico, preditività, ma anche patrimoniale con un occhio all'incremento del valore del patrimonio netto. Un altro aspetto che possiamo rilevare rispetto alla grandezza del patrimonio netto è il valore assoluto aggregato, 10 miliardi e mezzo di patrimonio netto complessivo, un incremento importante del 16% rispetto all'esercizio precedente con l'84% delle aziende che ha evidenziato un patrimonio netto in crescita. Se ci spostiamo quindi ancora di più sull'equilibrio dal punto di vista finanziario andiamo ad esaminare quella che è la posizione finanziaria netta, evidentemente principale grandezza aggregata che rappresenta l'esposizione verso l'esterno delle nostre aziende, abbiamo una posizione finanziaria netta a debito complessiva di 2,3 miliardi che però è in riduzione rispetto all'esercizio precedente. Questo significa che le aziende sono riuscite nel 2022 a diminuire rispetto all'esercizio precedente la propria esposizione, quindi utilizzando evidentemente risorse derivanti dall'autofinanziamento, addirittura meno 16%. Tra l'altro, giusto per memoria, vi ricordo che anche l'anno precedente noi avevamo avuto un trend diminutivo, quindi siamo al secondo anno consecutivo in cui questo trend di riduzione della posizione finanziaria netta si manifesta ulteriormente. Il 62% sono le aziende invece che esprime una posizione finanziaria netta a debito, questo vuol dire che la restante percentuale invece la esprime a credito. Se entriamo un po' più nel merito della clasterizzazione attraverso un'indagine settoriale, abbiamo ulteriori evidenze. Ovviamente io su questo cercherò di essere estremamente sintetico e rimando al dettaglio che viene rappresentato nel fascicolo allegato alla pubblicazione del centro della giornata odierna. Sostanzialmente abbiamo la ripartizione delle aziende per provincia, quello che mi limito a evidenziare da questa slide è che comunque tutte le province hanno comunque dimostrato un incremento del valore della produzione, chi più chi meno e diciamo con un numero di aziende che hanno contribuito più o meno elevato, in cima abbiamo la provincia di Chieti con 68 aziende che compaiono nella lista delle 200, poi abbiamo Teramo con 61, Pescara con 39, L'Aquila con 16, Campobasso 9 e Isernia 7. Ma al di là della dimensione territoriale del numero delle aziende, quello che è evidente è che tutte hanno dimostrato un incremento estremamente elevato, addirittura la provincia di Isernia con un valore della produzione che ha raggiunto 1,1 miliardi più 77% rispetto al 2021. Se entriamo nel merito invece dei settori di attività in base ai codici Ateco ci sono diverse fasce di crescita, tutte comunque in crescita, divise per settori, abbiamo una fascia alta che ha dimostrato un incremento del 30%, parliamo sempre del valore della produzione, commercio all'ingrosso al dettaglio, ambienti e utilities e altri settori, poi i settori che hanno dimostrato una crescita del più 20%, metallurgie prodotti in metallo, gomma chimica e plastica, agroalimentare e poi altri settori che invece hanno dimostrato comunque una crescita ma nei limiti del 15% in più e sono produzione industriale, edilizia, mobili, farmaceutico, abbigliamento, automotive. I primi tre settori che hanno raggiunto target di crescita molto elevati, vediamo un più 44% per commercio all'ingrosso, ambienti e utilities e più 30% commercio al dettaglio, parliamo sempre di incidenza sulla grandezza del valore della produzione e i primi quattro settori che invece a livello aggregato rappresentano congiuntamente il 60% del valore della produzione complessivo rappresentato appunto nel 2022 e questi sono produzione industriale, edilizia e costruzione, quindi parliamo del maggior valore assoluto aggregato del valore della produzione, edilizia e costruzione, commercio all'ingrosso e agroalimentare. Ancora una rappresentazione di sintesi questa volta sulla redditività, il margine BIDA, rapporto tra margine operativo lordo e valore della produzione, quelli che hanno avuto una maggiore crescita, un maggiore incremento, ricordo che il valore medio era l'11% a livello aggregato, sono edilizia e costruzione con 16,5%, farmaceutico e sanità 13,5%, ambiente utili 12,5%. Come dicevo questa se vogliamo è una rappresentazione asettica perché i numeri sono evidentemente asettici, ci danno una rappresentazione, poi sta a noi però leggere attraverso i numeri e fornire una linea interpretativa anche e soprattutto perché se vogliamo ragionare con metodo statistico la statistica interpreta gli andamenti storici ma lo fa tendenzialmente per darci anche una proiezione, una linea di quello che potrebbe essere lo sviluppo prospettico e quindi abbiamo provato anche a immaginare qual è il contesto nel quale queste 200 aziende si muovono e cosa le aspetta, cosa aspetta loro per il prossimo futuro. Ebbene noi ci troviamo di fronte ad un'analisi di contesto che spesso tende a limitarsi ad essere rappresentata con l'utilizzo di acronimi. Gli acronimi oggi sono usati ma anche abusati se vogliamo, scusatemi la battuta, ma ci aiutano se li comprendiamo fino in fondo a capire meglio il contesto con cui abbiamo a che fare. Mi riferisco a due acronimi principali VUCA e BANI che non sono due parole brutte ma hanno evidentemente un senso, sono state sviluppate entrambi in un contesto ovviamente americano, agli americani piace utilizzare gli acronimi evidentemente molto. Proviamo a capire che cosa vogliono rappresentare. Allora il primo diciamo ci dà una dimensione di contesto a partire dagli anni 80 in poi che però utilizza delle caratteristiche legate ad un ambito evidentemente oggettivo, cioè quello che è fuori dalle aziende e diciamo ci dà evidenza del fatto che ci troviamo in un contesto evidentemente caratterizzato da elevata volatilità, quindi gli andamenti delle grandezze non sono facilmente prevedibili, sono appunto volatili, c'è grande incertezza, c'è complessità ovvero non è possibile, non è sempre possibile prevedere a priori l'andamento di certe variabili a posteriori e c'è comunque ambiguità, quindi ci sono situazioni inattese che non è possibile prevedere e questa è una caratterizzazione che effettivamente se vogliamo è nata negli anni 80 ma ci sembra evidentemente rappresentativa di quello che avviene oggi e di quello che è è la situazione di contesto in cui possiamo tranquillamente dirlo l'incertezza e la nuova normalità e a fianco a questo acronimo che ci disegna una situazione di contesto ne possiamo utilizzare un altro, Bani, che però ci dà una rappresentazione più soggettiva, cioè rappresenta delle caratteristiche più degli operatori che esistono e lavorano nel contesto economico e quindi brittleness come fragilità, ansietà, non linearità dei comportamenti, incomprensibilità pensate a un evento come la pandemia, la pandemia ha creato evidentemente in tutti uno stato di ansia, uno stato ci ha fatto sentire tutti fragili in primisi sistemi economici, è evidente quindi questo acronimo ci aiuta a dipingere e rappresentare meglio i soggetti che operano in questo contesto. Questa situazione ci rappresenta quello che abbiamo intorno, il contesto e le caratteristiche che ci stanno, diciamo che stiamo sentendo in questo periodo. Cosa ci aspetta quindi per il futuro? Beh è evidente, mi ha colpito molto uno studio fatto pubblicato nel 2024 proprio da PwC che ha inteso intervistare, fare un'indagine sul campo rispetto a tutti i CEO e gli imprenditori italiani che sono stati intervistati rispetto alle loro aspettative sul futuro. Ebbene il 53% degli intervistati a livello Italia, mi riferisco, ha dato una rappresentazione della propria situazione definendola insostenibile nell'arco dei prossimi dieci anni. Quindi sono gli stessi imprenditori, gli stessi CEO che si rendono conto che lo stato attuale non potrà garantire la sostenibilità entro i prossimi dieci anni. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che tutti, la maggior parte degli imprenditori, dei territori si aspettano un percorso trasformativo. La parola cambiamento, la parola trasformazione sono state oggi parole chiave, dette più di una volta, rappresentano forse se vogliamo un po' il punto cardine dell'evento odierno. Ebbene la trasformazione diventa quindi l'unico percorso che può essere perseguito. Vedete la sostenibilità di cui si parla tanto e spesso viene banalmente relegata alla dimensione ambientale, alla dimensione sociale, viene quasi mai o poco affiancata invece al tema dell'azienda che deve durare nel tempo. Se vogliamo, banalmente vanno recuperate le teorie economico-aziendali dei nostri maestri. L'azienda è istituto economico atto per durare, quindi la sostenibilità va intesa in senso ampio. L'azienda è sostenibile quando è in grado di durare nel tempo. Se c'è una percezione da parte degli imprenditori che le aziende non possono mantenere questa sostenibilità nei prossimi dieci anni, vuol dire che c'è qualcosa da fare, da cambiare, da trasformare per poter ripristinare questa tendenza. Amaduzzi parlava delle condizioni tendenziali di equilibrio, quindi è evidente che non c'è azienda che non persegua le condizioni tendenziali di equilibrio nel tempo. Allora la sfida SG, chiaramente acronimo anch'esso usato e abusato, diventa probabilmente la spinta propulsiva per la trasformazione. Ma attenzione, non solo dal punto di vista ES, ambiente e aspetto sociale, che sicuramente sono di immediata percezione, ma spesso c'è una lettera che viene trascurata che è la G, la G di governance. La governance va necessariamente rafforzata nelle aziende perché diventa il centro decisionale, la sede del processo strategico. Senza decisione, senza centralità del ruolo della governance è evidente che qualsiasi iniziativa, che sia environment, che sia social, ha una portata di breve periodo. Non si trasforma in quella capacità di far durare l'azienda nel lungo periodo. Mi avvio alle conclusioni. Un percorso trasformativo evidentemente che può garantire questi tassi di crescita che noi abbiamo appena visto, perché noi ovviamente abbiamo tutti l'interesse a che quei tassi di crescita di cui abbiamo parlato in maniera positiva, ottimistica, vengano mantenuti nel tempo e quello lo step più difficile. Che l'anno prossimo ci ritroveremo di nuovo qui con gli stessi indicatori in crescita. Questa sarebbe una bella aspettativa e così via anche l'anno dopo ancora. Ebbene, questo probabilmente potrà essere raggiunto attraverso un percorso trasformativo, che sia un percorso trasformativo profondo all'interno dell'azienda e che segue una logica. Sicuramente il primo punto non lo dico nemmeno. È evidente che la shareholder theory è superata. È evidente che non è rappresentativa. Ma se vogliamo possiamo considerare addirittura superata anche la stakeholder theory. Perché oggi circola da febbraio 2024 un nuovo manifesto ad opere di alcuni aziendalisti italiani, a firma congiunta, che ha ridefinito quello che è il cosiddetto purpose dell'azienda. Che è, se vogliamo, la buona causa, la finalità ultima per cui l'azienda esiste ed è qualcosa che abbraccia a un livello sopraelevato sia la shareholder theory che la stakeholder theory. L'azienda deve durare nel tempo, se vogliamo, è qualcosa che abbiamo riscoperto, ma c'era già la capacità dell'azienda di durare nel tempo. Allora il purpose diventa il faro guida, ci aiuta a ridefinire i modelli di business, a rivedere profondamente quelle che sono le finalità dell'azienda, ma questo può realizzarsi solo se viene ripristinato il ruolo fondamentale della governance. E dove indirizza la governance? Verso una visione strategica rinnovata, che è in grado quindi di agire su diverse variabili a livello più concreto. La prima, favorire, far crescere, investire in competenze. Le competenze fanno la differenza. Vedete, si diceva prima, l'azienda non si può rappresentare con i numeri, è evidente che c'è qualcos'altro. C'è una componente qualitativa, una componente intangibile, quella che appunto Amaduzzi aveva già nella fine degli anni Ottanta definito come profili di impresa, profili qualitativi difficilmente quantizzabili. Lo sviluppo delle competenze crea un humus fertile per lo sviluppo dell'innovazione, per il ricepimento di tutte le sfide legate alla tecnologia, penso all'intelligenza artificiale, alla digitalizzazione e così via. Ma c'è un'altra visione che è stata accennata dai saluti, da chi mi ha preceduto e mi piace qui ripeterla. Il discorso della partnership. Le aziende da sole non necessariamente riescono a raggiungere gli obiettivi. È probabile che lo sviluppo delle competenze, che la propensione all'innovazione sia più facile laddove le aziende riescano ad aggregarsi in partnership, con accordi, con unione di forze, ma sono tutte partnership evidentemente strategiche. Un altro elemento di trasformazione, un altro elemento che rientra in questa visione strategica, l'accesso a forme di finanza alternativa. Le aziende italiane sono sempre state caratterizzate evidentemente da un capitale di proprietà tendenzialmente ridotto rispetto al fabbisogno, anche rispetto, se facciamo il paragone con contesti anglosassoni. È evidente che in questi contesti l'apertura del capitale è sempre stata più forte rispetto alla media del nostro paese. Ebbene, l'apertura del capitale, ci sono l'apertura del capitale di rischio ovviamente, a forme nuove di investimento, strumenti ibridi di capitale, la quotazione. Sono tutti percorsi che aiutano in questo meccanismo trasformativo. E poi l'aspetto fondamentale che tra l'altro ci porta ai nostri giorni e al fatto che ci sono, sapete meglio di me, nuove norme sul tema del codice della crisi, la necessità di dotarsi di adeguati assetti e quindi di gestire il rischio. Se ormai l'incertezza è la nuova normalità, è evidente che se non c'è un monitoraggio del rischio tutto il castello cade. Perché il monitoraggio del rischio deve essere in grado di fornire informazioni tempestive all'organo decisionale, strategico e quindi di riavviare il ciclo decisionale. Allora se riesco a monitorare non è tanto un fatto di adempiere ad una norma, ma è un fatto sostanziale perché il monitoraggio salva l'azienda, consente di intervenire in tempo. Tutti questi elementi congiunti all'interno di un percorso di analisi strategica attraverso un rafforzamento della governance, attraverso lo snellimento del processo decisionale, il raggiungimento di maggiori livelli di efficienza nei processi aziendali, questo è evidente, ci consente di affrontare, di realizzare appieno questo percorso trasformativo di cui parlavo. Ed è probabilmente questa la strada che ci consentirà l'anno prossimo di ritrovarci nuovamente a parlare di andamenti economici con il segno più. Io vi ringrazio, spero di essere stato sufficientemente sintetico e passo la parola al parterre dei relatori. Allora aggiungo a quanto detto dal professore che rispetto alla pubblicazione della ricerca del suo complesso sarà disponibile e distribuita al termine di questo evento in uscita appunto grazie a Editoriale Il Centro che è partner di questa iniziativa e domani sarà in edicola gratis per tutti i lettori del Quotidiano d'Abruzzo. Siamo tornati nei nostri studi per commentare insieme a Stefano Amicone di PwC Italia che ha organizzato l'evento, la relazione che abbiamo appena ascoltato da parte dell'Università d'Annunzio, ricordo appunto la dirigente del Dipartimento Stefania Migliori e il professor Francesco De Luca che ha proprio nei dettagli fatto un vero e proprio check up della situazione delle aziende che poi Amicone evidentemente ripercuote anche un po' il momento generale dell'economia, c'era stata già una ripresa dopo il Covid, in questa stagione e poi quella relativa ai dati analizzati è il 2002, si nota già un segnale di consolidamento di un tessuto industriale che rimane una delle voci più importanti dell'economia della nostra regione, anche se sono settori nuovi che emergono. Assolutamente direttore, come diceva Pocanzi si poteva temere che dopo il forte rimbalzo del post Covid nel 2022 ci poteva essere un rallentamento, invece non è avvenuto come ha evidenziato nella ricerca il professor De Luca, c'è stata un'ulteriore crescita del valore della produzione del campione di aziende analizzato superiore al 20% così come anche i dati relativi alla redditività e anche all'indebitamento complessivo sono dati in miglioramento, quindi questo ci dice che il territorio industriale di queste 200 aziende dell'Abruzzo e del Molise ha dimostrato resilienza e capacità di continuare a crescere e a svilupparsi. Quello che emerge dall'analisi non solo del nostro territorio ma un po' dell'Italia intera ma a livello globale è che oggi per poter contrastare i fenomeni globali che sono sempre molto veloci, ricordiamo che noi in tre anni siamo passati da una pandemia ad una guerra in Russia-Ucraina, abbiamo avuto una crisi macroeconomica legata all'inalzamento dei prezzi dell'energia, del costo delle materie prime, poi abbiamo avuto un'inflazione che per anni è stata diciamo bassissima e che ce la siamo ritrovata a doppia cifra. Adesso il Medio Oriente, poi c'è il problema logistico sul canale di Suez. Le aziende devono essere molto oci e devono iniziare a gestire il rischio per poter appunto fronteggiare queste situazioni. Cosa emerge? Emerge che è necessario trasformarsi, diceva Brunello Cucinelli, evolversi, è la stessa cosa. Oggi la trasformazione riguarda tanti aspetti che vanno dalla intelligenza artificiale, dalla digitalizzazione, la sostenibilità per quanto riguarda l'aspetto ambientale, di governance e sociale, anch'essa è un modo di trasformare l'azienda ma anche la parte della finanza. La finanza è sempre fondamentale rispetto a un processo di crescita perché senza la finanza è difficile fare investimenti per rimanere competitivi e continuare a crescere. La finanza oggi vuol dire non solo il tradizionale sistema bancario ma vuol dire aprire il capitale a altri investitori perché ricordava anche nella ricerca il professor De Luca, ce lo diceva anche lo stesso Brunello Cucinelli che nel 2010 ha quotato l'azienda in borsa, l'azienda deve essere in grado di andare oltre l'imprenditore e questa è la visione diciamo che nel futuro il mondo imprenditoriale deve incominciare a seguire, devono andare oltre la gestione migliare, solo in questo modo si può essere al passo con quello che è appunto il progresso. Ecco ma da parte del vostro mondo, dei consulenti d'impresa, dei dottori commercialisti, tutti i professionisti che ruotano attorno alla vita di un'impresa e collaborano con le imprese. In Abruzzo e Molise le domande sono due, c'è un territorio fertile perché si possa determinare questo processo di evoluzione e soprattutto c'è anche una professionalità in grado di accompagnare le imprese? Assolutamente sì, anche le imprese del nostro territorio e quelle appunto rappresentate nel campione da diversi anni hanno iniziato a ragionare in questo senso, devo dire che le nostre imprese per la maggior parte sono ancora legate alla famiglia ma hanno intrapreso da qualche anno un processo di managerializzazione che è fondamentale appunto per poter essere poi al passo dei tempi. Solo con un forte processo di managerializzazione che comunque deve essere affiancato comunque all'imprenditore è possibile appunto iniziare a trasformarsi ed evolversi. Quindi a questo punto di vista sì, poi diciamo nel corso della giornata i professionisti e i direttori finanziari e amministrativi erano numerosissimi e questo ci dimostra appunto che il livello di attenzione è alto. E che insomma avete centrato il problema dei problemi. Noi ci fermiamo per un'altra pausa che anticipiamo perché sarà piuttosto interessante e corposo l'intervento che tutti attendono anche sul nostro emittente di Brunello Cucinelli che è stato intervistato da Alessandro Grandinetti ma ne parleremo tra pochissimo nell'introdurlo. Allora ancora a linea della regia e ci vediamo tra poco. Siamo tornati in studio per il momento clou diciamo di questa nostra trasmissione e ha rappresentato anche il momento di grande interesse e di attrattività nel corso della mattinata dello scorso 13 aprile a Pescara evento top 200 le aziende di Abruzzo e Molise al setaccio in una ricerca dell'università d'annunzio per una giornata sui nuovi modelli di sviluppo economico sostenibile promossa da PwC Italia. Stefano Micone appunto a proposito di sostenibilità in generale poi sentiremo anche come viene declinato questo concetto dal Cucinelli non poteva esserci scelta più appropriata anche perché Cucinelli è da qualche mese anche abruzzese d'adozione. Beh assolutamente l'investimento a penne diciamo fa sì che in qualche modo un'impresa come casa di moda Brunello Cucinelli possa essere anche diciamo da oggi un'impresa abruzzese loro come modello di business rappresentano tra le tante aziende italiane il clou del Made in Italy tutta la produzione è assolutamente fatta in Italia ed è fatta diciamo nei dintorni della provincia di Perugia c'è una piccola attività che viene svolta in Toscana quindi adesso questo investimento molto importante appenne che darà lavoro a circa 4-500 persone secondo quelli che sono i piani dichiarati farà sì che appunto questo gruppo industriale e manifatturiero in qualche modo possa essere diciamo abruzzese a tutti gli effetti. La sostenibilità diciamo che in questi anni è stata portata avanti da quest'ienda è sostanzialmente legata agli aspetti della socialità, del rispetto delle persone di mettere la persona al centro di ogni processo di trasformazione. Questo è quello che anche noi dal nostro punto di vista abbiamo potuto verificare. Ecco lei che è in contatto anche personalmente con Cucinelli insomma è realmente così come lo vedremo tra poco insomma anche capace di dare una svolta diversa all'approccio prettamente economico della sua attività? In tanti sono chiesti dopo averlo ascoltato devo dire di sì quello che ha fatto in questi anni nel suo gruppo è quello che poi lui sostanzialmente dice e quindi da questo punto di vista sì poi c'è una dichiarazione non finanziaria che appunto il cosiddetto bilancio di sostenibilità che è disponibile su tutti diciamo sul sito internet della società essendo una società quotata i documenti appunto sono consultabili sul sito se uno legge quel documento insomma capisce che probabilmente quello che dice corrisponde a realtà perché c'è tutto scritto. Andiamo a sentire quello che dice ed è veramente una lezione accolta a volte dagli applausi a volte anche da qualche reazione pensiamo alla platea anche di imprenditori insomma un po' anche di sconcerto rispetto alla forza alla dirompenza dell'interloquire di Beronello Cucinelli con Alessandro Grandinetti che insomma è partner di PwC Italia Clients and Markets Leader che lo ha intervistato non senza qualche difficoltà perché è come arginare un fiume in piena allora davvero una conversazione molto interessante rivolta soprattutto ai giovani per cui ecco noi abbiamo deciso di mandarla in onda perché non è un passaggio semplice di un convegno amicone anche un discorso che può essere utile ascoltare anche per chi non si occupa di economia chi non vive la vita dell'impresa ma anche per un ragazzo che studia per una famiglia insomma ascoltare quello che quest'uomo riesce a comunicare è per ciascuno di noi un arricchimento ve lo dico davvero quindi grande attenzione alle parole di Brunello Cucinelli e anche a ciò che rappresenta la sua attività e può rappresentare anche per il nostro territorio quindi volentieri vi mandiamo in onda questa bellissima intervista con la quale peraltro salutiamo il rappresentante di PwC Italia Stefano Amicone parlando ovviamente di quelle che saranno le prospettive della prossima edizione certo dopo Cucinelli non sarà facile non sarà facile trovare personaggi di questo tipo siamo già al lavoro bene bene allora appuntamento all'edizione 2025 di Top 200 Abruzzo e Molise e naturalmente buona visione e buon ascolto dell'intervista a Brunello Cucinelli bene grazie a tutti grazie a Stefano questa è una delle nostre passioni il territorio è una delle nostre passioni facciamo una ventina di queste edizioni in giro per l'Italia e numeri sono stati dati i concetti sono stati dati è stato detto tutto io l'unica cosa che dico è che ci sono 5.700 aziende in Italia che fanno più di 100 milioni di fatturato questa è la ricchezza che noi abbiamo ma ci sono per tornare al discorso delle filiere 5 milioni di imprese in Italia 5 milioni di imprese in Italia quindi il territorio l'ecosistema l'architettura aperta così come volete chiamarlo voi è la ricchezza di questo paese è la ricchezza di questo paese è la testimonianza è l'heritage culturale di quello che sarà passato io non posso non cominciare non so se voi avete avuto mai l'opportunità di leggere la dichiarazione non finanziaria di Brunello Cucinelli perché comincia con la definizione di capitalismo umanistico l'avrete sentito tutti quanti eccetera però io vi leggo solo tre righe e poi lascio spiegare la definizione di capitalismo umanistico dall'attirazione non finanziaria di Brunello Cucinelli alla seguente armonia con il creato equilibrio tra profitto e dono dignità morale ed economica dell'essere umano questa è la definizione di capitalismo umanistico ho letto quindi chiederei un primo commento su questo e poi vorrei tornare se mi consenti poi sul tema delle competenze e delle competenze nella manifattura per andare proprio sul concreto ma intanto grazie per l'invito aspettate che mi sia aperta la camicia tanto stamattina siamo partiti da Perugia quando siamo arrivati qui c'è la maiella e il gran sasso che era una gioia della vita quindi grazie per l'invito io sono qui solo principalmente per parlarvi non di paura specialmente ai giovani ma di guardare il mondo con la speranza questo è sicuro perché noi genitori io sono nonno noi abbiamo trasmesso ai nostri figli l'obbligo di aver paura mio babbo, mio nonno, di coloro che hanno un'età simile alla mia hanno fatto la guerra, la fame, la dittatura ma non hanno mai parlato di paura invece poi noi genitori, voi 45 anni, noi 60 e 70 anni vi diciamo ai nostri figli oddio stai attento e stai attento e poi vorremmo che facessero i figli il lavoro che vogliamo noi vorremmo che sposassero chi vogliamo noi allora io dico sempre ai giovani non ascoltateci mai ascoltateci solo quando vi parliamo dei tre grandi ideali dell'essere umano la bella famiglia, la bella politica, la spiritualità o religione perché allora è così abbiate il sogno e andate per la vostra strada questo è il grande tema e quando il vostro papà e la vostra mamma vi diranno chi te la fa, chi fa voi avete un'idea, no? e tornate a casa e i vostri genitori vi diranno ma dove produci, chi ti dà i soldi non vi preoccupate fate quello che vi pare guardate, io ho fatto tre anni in ingegneria e un esame quindi solo una volta mio babbo mi ha detto come va la scuola? e mi ha detto potrebbe andare un pochino meglio babbo ma il giorno che scherzando gli ho detto scherzando, mica tanto noi ci chiamiamo babbo caro papà mi metto a fare pullover di cashmere e lui mi ha guardato papà poco più conosceva pullover niente cashmere niente mi ha detto un perugino non ci ho capito un cazzo fai tu che Dio ti aiuti avete capito che mi ha detto? fai tu che Dio ti aiuti allora noi genitori vorremmo essere per voi i vostri guardiani i vostri paladini coloro che verificano il vostro operato e vi proteggano alle spalle questo guardate che è un grande tema sui giovani allora nei nostri osservatori sapete ma lo ridico l'Italia è prima nel mondo nella produzione testile dell'abbigliamento pelli e calzature noi siamo market leader mondiali forse non sapete pure che siamo però i terzi produttori di agricoltura in Europa su molti prodotti i secondi in Europa su molti prodotti forse non sapete che siamo tra i principali produttori anche nella filiera aerospaziale noi abbiamo tantissime eccellenze le eccellenze si formano sulle competenze le competenze sulla manifattura sono la differenza che crea valore il tema delle competenze quindi il tema del lavoro del lavoro operaio quanto è importante il collegamento tra dignità e lavoro se voi potete spegnerlo perché almeno io quando guardo qualcosa non ascolto ciò che dico se voglio spegnete io sono contento se no ascoltiamo quello che dici che è più interessante perché se no uno si confonde almeno quando faccio una cosa io faccio una voi ascoltate a me bravi se no uno si confonde avete visto qualcosa che succede adesso no che tu parli e uno non ti risponde si mette a rispondere al telefonino si mette a fare i messaggi io c'ho qualche volta quando lo fa mia moglie e io sto zitto poi mia moglie mi comincia la domanda e io gli faccio e lei fa ma non mi rispondi ma scusa ma perché hai smesso di io parlavo e tu hai smesso di parlare con me per fare il messaggio non si può mandatela a quel paese fatela vedere abbiamo bisogno di concentrazione allora io seriamente vi dico siamo lo 0,7% della popolazione al mondo sì siamo la settima potenza al mondo sì siamo lo miglior stato sociale al mondo se non il migliore fu il secondo si è d'accordo benissimo allora siamo i più grandi manufatturieri al mondo di cose di qualità siamo secondi manufatturieri solo la Germania giusto allora vuol dire che la nostra Italia deve sicuramente concentrarsi su manufatti di medio alto livello ma non perché coloro che fanno o facevano manufatti di medio livello non siano di qualità perché è cambiata l'umanità se io fossi un cinese un indiano un sudamericano non avrei nessuna necessità di comprarmi un made in Italy di basso livello e se abbiamo questo tant'è vero che abbiamo il 7% della disoccupazione mai avuta nella nostra storia e addirittura piccola parentesi se gli esseri umani secondo me giustamente non accettano certi lavori su mezzo milione di esseri umani più o meno avremmo una disoccupazione intorno a 4,5 o 5 quindi ecco noi dobbiamo fare un grandissimo passo siamo manufatturieri sì chi farà certi manufatti speciali? non parliamo mai delle condizioni di lavoro dell'essere umano delle condizioni operaie e io non sono venuto qui per parlarvi degli impiegati io sono venuto qui per parlarvi degli operai perché quando tu sei impiegato vai a lavorare hai le finestre sei chiamato impiegato se stai una settimana malato ricevi sette giorni di stipendio vai in discoteca e il ragazzetto la ragazzetta chiunque ti si avvicina che cosa fai? impiegato ok passiamo all'operaio che fai tu di mestiere? l'operaio i primi tre giorni che stai male non ricevi stipendio per tutta la vita tu puoi avere dal primo al quinto livello l'impiegato e hai il settimo e hai il sesto e il settimo chi di voi consiglierebbe al proprio figlio di fare l'operaio che per natura questa espressione è antica ma è sufficientemente di scarsa qualità umana io ho lavorato molti anni per capire se potevo sostituire l'operaio non sono riuscito a trovarlo quindi noi ci dobbiamo preoccupare delle condizioni di vita dell'operaio perché l'operaio deve lavorare in luoghi dove non ci sono le finestre inutile che ci nascondiamo noi siamo stati abituati e le nostre fabbriche sono così se tu lavori in produzione non hai le finestre perché se hai le finestre alzi gli occhi al cielo e se alzi gli occhi al cielo 200 volte in un giorno per 6 secondi hai perso 600 secondi e se hai perso 600 secondi hai perso produttività guardate abbiamo fatto una cosa che si è verificata molto carina io ho un rapporto bellissimo con Luxottica ce l'avevo con il mio amato Leonardo che mi diceva sempre vai ad Agordo a vedere la nostra bella fabbrica ahimè se ne è andato e sono andato dopo della sua morte sono arrivato alla fabbrica è bellissima non ho trovato una ragnatela a un certo punto il mio amico Milleria mi è stato delegato ho detto ma scusa ma qui non ce l'avete una ragnatela ho detto no ma forse perché ci sono le montagne e no è impossibile è curatissima però le finestre i ragazzi lavorano senza vedere le montagne allora ho detto ma se voi apriste queste due ali lavorate con le montagne davanti ma ragazzi ma andare a lavorare per il semplice salario perché i nostri salari non sono un gran che alti siete d'accordo? vedere la luce elettrica dal mese di ottobre al mese di febbraio senza rivedere il sole e noi dobbiamo dire ma tu vi veniamo a dire andiamo a dire ai nostri peragli ma tu devi aver passione ma tu devi aver creatività ma Jean-Jacques Rousseau dice che l'essere umano è creativo quando tutto intorno a sé è in equilibrio con il creato poi sai quest'anno non possiamo darti premi perché le cose non sono andate in granché bene affanculo siccome guardate ve lo dico seriamente siccome mio babbo quando i fratelli andavano a lavorare il padrone sapevano del padrone che aveva una villa al mare ma mio babbo non sapeva neanche dove era il mare perché io il mare l'ho visto la prima volta a 14 anni quindi considerate che ho visto anche una prima donna in costume a 14 anni perché la televisione non c'era non c'era la radio pensate l'attività manuale che lavoro ha fatto vabbè sai rire io l'ho vista mai era in campagna non c'era niente giornali non c'erano televisione non c'era ma come sarà boh allora possiamo tornare adesso chiunque di voi di noi va qui sappiamo tutto quanto guadagniamo come viviamo se lei dice Marco Aurelio cerca di essere credibile se vuoi che l'essere umano ti viene dietro sia credibile sempre quando le cose vanno bene quando vanno un pochino meno bene quando sei triste quando sei gioioso mica per forza devi essere sempre gioioso ma se le cose vanno un pochino meglio guardate che voi sapete meglio di me che con l'uno per cento del profitto uno possiamo cambiare la vita dell'operaio allora io non mi preoccupo a chi venderemo un abito fatto a mano fatto a penne o a Carrara o a Solomeo troveremo chi compra i nostri manufatti ma sarà un problema chi li farà quindi dobbiamo cambiare questo io voglio far questo nella nostra impresa l'operaio vero ha un 15-16% di stipendio più alto chiaramente dell'impiegato perché ha le mani e questo vale anche per coloro che per natura fanno un lavoro umile che ve lo descrivo con le pulizie si chiamano coloro che fanno che riordinano le cose perché voi dovete andare in discoteca a 26 anni che lavoro fai? eh faccio le pulizie ma dove sta l'essere umano? allora se tu invece magari vai sai riordino da cucinelle quanto guadagno? artigiano perché tu riordini hai le mani per riordinarci voglio le mani giusto? quindi hanno lo stesso valore che coloro che cuciono dice ma i nostri figli non vogliono andare a fare scuole di preparazione ma loro lo sanno che dopo devono andare in fabbrica perché noi certi mestieri devono fare i figli degli altri perché i figli e gli altri possono farlo i nostri no ma allora che ci raccontiamo? allora io penso e io voglio fare l'inverso io voglio lavorare per la classe operaria guardate che se non riequilibriamo le ore di lavoro non funziona al di là della concentrazione da noi non si può perché guardate c'è una sostenibilità è vero del clima ne abbiamo parlato c'è una sostenibilità economica quanto guadagni dove lavori c'è una sostenibilità culturale che fai per il territorio c'è una sostenibilità spirituale no? se tu mi tratti bene io sono più creativo c'è una sostenibilità tecnologica tocca essere connessi 24 ore il manager alle una della notte ti manda ti manda il messaggino e tu gli devi rispondere che se io trovo uno che mi fa un'app che quando gli risponde gli fai così gli pago l'app moltissimo tu alle una di notte con la mia famiglia col mio io mi devi rispondere tu dovresti vergognare perché stai rubando l'anima la tecnologia è un dono del creato ma ci potrebbe anche rubare l'anima quindi da noi non si può si inizia alle otto si smette all'una si mangia fino alle due e mezzo e poi si lavora fino alle cinque e mezzo non si può essere connessi se c'è una cosa speciale mi fai una telefonata in una telefonata questo correva con me al mare dovevamo fissare un appuntamento per allenarsi ci ha messo 4 minuti 8,8 per fissare l'appuntamento ma se lo chiami ci vediamo mercoledì mattina lui ha mandato il messaggino poi l'altro gli ha risposto con quel sistema che fa se avete capito lo velocizzano sei proprio un coglione Luca fattelo di hai perso tre minuti per niente allora possiamo riequilibrarci? allora interrompiti se no io vado a sole no 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 in questa conversazione Brunello ha declinato i sei profili dell'umana sostenibilità economica ambientale culturale spirituale morale e tecnologica ma la morale mi manca bravo ecco sei accorto eccolo là vai allora scusate io sono italiano no? prevesso che un giornalista svizzero mi dice ma lei potrebbe passare a Zurigo sapete questi che hanno studiato nelle grandi università che parlano anche velocemente perché sembrano essere più furbi guarda Zurigo appena che arrivo parlava italiano mi dice ma lei in Italia è sempre un casino ho detto buono eh tu ti sei preso la moglie di Bari perché io me l'ero informato gli ho detto qui a Zurigo non ride nessuno ci sarà un motivo se non ride nessuno quindi è già cominciata così poi è andata benissimo ma io che mio nonna ha fatto la guerra mio babbo ha fatto la guerra per fare un'Italia vera dovrei portare la mia società in un altro paese per risparmiare tasse io mi vergognerei e non lo faccio allora c'è questo c'è questo milanese non è che io la voglia con i milanesi ma anche questi milanesi qualche volta un po' bauscia sono però allora lui mi chiama sai perché io vorrei venire da lei sempre così no perché sembra essere efficienti vorrei venire da lei perché ho una grande proposta per il Lussemburgo mi ha detto venga venga trovo importantissima io trovo anche una bella idea ha fatto 400 km di macchina è arrivato nell'ufficio appena entrato io ho detto porca miseria e non gli ho detto che l'azienda non c'ha le ruote come cazzo faccia a portarla a Lussemburgo poi ho detto l'espressione un po' carina e lui se n'è andato ma ti vorrei informare se io sostengo l'impresa in Lussemburgo ma e questa è la dignità morale perché Augusto Imperatore duemila anni fa nel diritto romano mette tre cose fondamentali vivi onestamente non recar danni a nessuno a ognuno il suo allora voi state in una terra voi state una bella terra porca miseria giusto? ci considerano un po' terroni ma io sono contento perché vedete quando Platone nel 400 avanti Cristo va a Siracusa perché gli avevano detto che era la più bella zona la più bella città della 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 non della Grecia non mi viene dell'Ellade la bella no era la più bella città dell'Ellade arriva Platone sapete che era un po' pacchettone allora dice questi taglioti lo scrive lui non ve lo dico questi taglioti e siracusani che gozzovigliano due volte al giorno e non vogliono mai andare a letto da soli già 2400 anni fa non volevamo andare a letto da soli ma pensateci bene seriamente l'andare a letto da soli non è un po' quel timore che abbiamo della solitudine che è il grande problema dell'essere umano perché la solitudine è questo quindi noi siamo un bel popolo siamo un popolo di persone per bene che mio babbo che è morto due anni fa cent'anni mi diceva sempre devi essere una persona per bene mi dici sempre la stessa cosa mio babbo non ha letto il libro niente però voglio essere più ricco nel cimitero babbo il cimitero è piccolino ricordate che i debiti lavorano anche la domenica amico mio babbo allora siamo persone per bene siete una bella terra guardate che le persone possono venire anche a dirigere lavorare nella nostra terra perché abbiamo bisogno di riequilibrarci perché il nostro mal dell'anima è fortissimo tanto il mal dell'anima ci colpisce dalla nascita ci porta nella tomba ma in questo ultimo ventennio forse quello che i greci chiamano il demone buono il demone meno buono quindi facciamo un bel momento di riflessione ritroviamo un bel equilibrio se trovate uno che fa lo spiritoso e tutto mandato da quel paese come dice Socrate io voglio vivere con quelli che mi piacciono dice poi c'è un bel lui ha una bella espressione quando dice ma sai alla fine della vita io non so che cosa ci sia ma per i malvagi sarà diverso che per i buoni e se così non fosse ho vissuto meglio allora noi siamo una bella terra persone per bene che lavorano ahimè come ognuno di noi deve innovare il nostro prodotto se no professore tu diventi vecchio tutto non sono tanto convinto del titolo che avete dato che bisogna trasformarsi no in italiano gli avrei scritto evolversi perché trasformarsi significa che può darsi che invece di pullover produrre i pullover produscono no evolversi ma questo lo vuole l'umanità dobbiamo evolversi come non aver paura del domani di che cosa abbiamo paura come stavamo 40-50 anni fa come venite e voi trattate donne 30 anni fa i figli i gay io avevo il mio amico Ugolini che era gay poverino anche molto giovane che era compagno del banco io stavo qui lui ci scherzava ma guardate che 40 anni fa non si chiamavano gay e quando faceva l'appello la professoressa Ugolini presente io sono non vi dico la parola gay io sono gay invece lui diceva un'altra cosa ridendo era bellissimo porca miseria questa è l'umanità voi dovete essere aperti al mondo perché la nostra perché dobbiamo studiare poco amico mio dov'è il professor perché c'è un'intelligenza da studio una dell'anima se tu sei un se tu sei educato come fanno le nostre università le nostre scuole sei aperto al mondo se sei istruito conosci solo qualcosa un ponte studi il ponte di legno ma non conosci quello di ferro e noi abbiamo bisogno di essere educati perché la nostra educazione siamo aperti al mondo sicuro parlo sempre io che intervista mi ha fatto però me piglia volevo dire no sarebbe era ovvio che andasse così cioè è talmente bello sentirti certi valori mi prende perché loro hanno parlato di tutte cose molto interessanti ma infatti era su questo ma io volevo parlare più di valori perché sono venuto per questo sono tornato alle una della notte per andare a parlare ai valori ma ci vado mi diverto d'amori porca miseria e tutti quelli che stiro un piccojoni di vecchi come me no? perché sapete come funziona giovani? tu fino a vent'anni è l'istinto no? Alessandro Magno guarda il mare e la mamma gli dice Alessandro ma perché fissi il mare? voglio vedere i confini del mondo e parti a 18 anni con 6-7 amici con solo il generale per dica del babbo e conquista fanno l'impero più grande poi da 20 a 40 l'erotismo l'erotismo ti attacchi lì camietta eh poi da 40 a 60 cominci a equilibrarti e dopo 60 a te sta bene un cazzo è così ma ti ricordi quando eri giovane ma ti ricordi ma perché non proviamo a vivere i momenti della vita secondo natura vivi secondo natura secondo l'umanità datti pace rispetto al mondo altrui no? almeno così io voglio fare questo è un pochino il capitalismo umanistico non so se è stato chiaramente recepito un paio di punti secondo me che sono invece relativi un po' a tutto quanto il contesto della manifattura e tutto il contesto dell'eccellenza italiana che è questo discorso delle competenze anche adesso ho sta luce qui che puoi darci un po' la tua visione su noi abbiamo fatto un sacco di conversioni con tanti imprenditori in tanti settori diversi e tutti lamentano la necessità di queste competenze tecniche non abbiamo le scuole di competenze tecniche come facciamo ad assicurare la nostra manifattura l'eccellenza di cui abbiamo bisogno eccetera il recupero della dignità ha bisogno anche di un po' di struttura su questo o no perché ci sono dei distretti che veramente stanno faticando adesso cosa pensi? è che noi dobbiamo mettere le mani in tasca abbiamo il coccodrillo qui ma perché noi dobbiamo sostenere che manca ma che facciamo noi per le mani di un essere umano andiamo a lavorare a 1300 euro dopo fra sei anni guadagnerà 1420 euro lavorerà dove non c'è la luce andrà in discoteca e dovrà dire che far l'operaio o dice ma che bello fare il sarto che zappare le olive c'è stato un testa di cazzo fatemelo dire perché lo merita uno di questi saggi che è venuto a tenere una conferenza sulle olive ha detto noi italiani non capiamo niente non piantumiamo le olive bravo io ho detto e tu lo mandi tuo babbo a zappare le olive tuo figlio a zappare le olive a 600 euro al mese questo è il grande tema noi abbiamo capacità abbiamo tutto ma per sostenere questo dobbiamo prima di tutto far sì che la nostra classe operaia abbia una remunerazione un po' più umana un salario un po' più umano non uno stipendio perché lo stipendio salario è un'altra cosa non possiamo raccontare storie qui sono una marea di giovani sono delle belle imprese dobbiamo essere creativi per essere creativi dobbiamo avere gente vicino rispettata in gamba perché se tu a qualcuno gli dici come stai ti vedo giù giù così quello si sente meglio e il giorno dopo sarà più creativo perché se io ti do stima la stima genera responsabilità e la responsabilità genera creatività quindi noi ce l'abbiamo non la perdiamo e a voi imprenditori dico date un euro in più se è possibile voi dite lo so ma tu fai cashmere sì ma noi abbiamo un profitto del 10% non abbiamo un profitto del 20-30% e quando qualcuno mi dice ma tu non compri quella cosa no perché guadagna troppo io devo comprare qualcosa che dove uno fa un EBIT dalle il 40% siamo assurdi no e i giovani sono molto attenti quanto guadagni come è fatto dove è fatto hai reocato danni all'uomo alla terra agli animali guardate che è un momento molto particolare se invece noi facciamo il giusto profitto le condizioni di lavoro se possiamo in una certa maniera se diamo dignità nella nostra fabbrica lo so il parasciocco nessuno può offendere un essere umano automaticamente è licenziato certo tu puoi essere anche il CEO l'unico io è perché io rispondo all'eccellentissimo onnipotente ma se si incassa l'eccellentissimo onnipotente allora siate persone per bene siate carini con chi lavora con voi e ascoltateli nessuna decisione possiamo prenderla insieme certo che ci sono decisioni che alla funa qualcuno tocca ma se mi sono confrontato con te sta cosa com'è insomma chi l'ha fatta tu chi l'ha creata l'ha creata no fatta io solo io perché voi sapete che ci sono tre manager e 97 broccoli in una fabbrica di 100 operai così è quello ha studiato ma se sei un coglione ha studiato noi abbiamo il 50% di manager che non hanno studiato niente ma ve lo garantisco io hanno un tasso allora vedete abbiamo bisogno di persone normali abbiamo bisogno di meno meeting dove ci dicono che cosa dobbiamo fare che siamo sempre indietro abbiamo sempre paura è tutto un caos e non van bene le tasse ma vai a vivere in Svizzera che cazzo vuoi da noi io non ci vengo di Svizzera siamo d'accordo siamo d'accordo perché non sorride nessuno scusate per qualche termine un po' così che poi che fate lo registrate e lo mettete su Facebook ma io ma io mi diverto da morire perché quando ci vuole ci vuole quando tu gli devi dire un'espressione vera gli la devi dire perché il mio amico mio amico che piglia il Viagra poverino è morto l'anno scorso da Leorim Perugino gli ho detto Alfio ma tu lo prendi scusa tu lo pigli il Viagra io lo piglio il Viagra ma non c'ho la forza sui bracci per spigne hai capito? grazie ma è la verità è la verità bella allora io ho chiesto ho chiesto un po' ai miei colleghi che cosa avrebbero avuto piacere non è che non siamo seri perché certi concetti sono seri sono sempre stati abbiamo passati tutti quanti è stato un po' complicato però mi sembra che li abbiamo ripercorsi penne impegno su penne perché penne quanto è bella questa iniziativa devo dire la verità guardate io credo che noi siamo manufatturieri dicevo prima no ma noi ci sono dei ristretti per esempio noi in Umbria siamo nati fortissimi con la maglieria da sempre non facciamo cashmine e io ho avuto questa idea di fare cashmine ma maglieria maranello della maglieria certo certo ma penne è la maranello se tu vai da un cliente quelli famosissimi e gli dici l'abbiamo fatta penne non c'hai bisogno di dirgli che è made in Italy l'abbiamo fatta penne significa l'abbiamo fatta maranello delle macchine come a Carrara a Carrara ormai abbiamo una piccola fabbrichetta ma x anni fa negli anni 70 avevano mille persone che facevano gli abiti speciali quindi qui c'è una cultura considerate che a penne più o meno su 10.000 persone 3.500 sanno lavorare nell'abbigliamento allora siamo andati abbiamo preso provvisoriamente una fabbrica per un centinaio di persone però sono tutte aperte lavorano guardando il gran sasso la magliella porca miseria adesso abbiamo iniziato la nuova fabbrica io spero che di finirla un paio d'anni e spero che vengano a lavorare con noi tre o quattrocento persone perché certe cose sapete che tutto si impara ma il sarto ci vogliono tre anni tre anni mentre tu a cucire una camicia a fagliare il sarto ci vogliono tre anni da uomo perché la giacca da uomo è molto complicata più della giacca da donna noi qui ci troviamo bene tra l'altro dico a voi chi è di penne abbiamo detto che quest'estate noi dobbiamo fare una cena fuori 800, 1000, 2000 persone chi sono? dal vescovo al prete a tutti quanti a parlare di umanità e dignità e di rispetto nel lavoro però voi siete una bella terra devo dire la verità beh direi no? siete una terra di persone per bene siete una terra di persone ma in Umbria non siamo una terra di persone per bene? sì direi che in tutte le assomigliamo molto ma poi mi piace questa cosa che ci considerano terroni mi piace molto e io che parlo sempre con San Francesco San Baneret San Francesco ma fidate di non ascoltare tanti broccoli mi sembra non ti preoccupare guardate che da noi un po' anche da voi la cultura di Benedetto di Francesco questa rigorosità quella roba lì è molto forte a legge a legge sì 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 assolutamente ma sapete Benedetto a un certo punto raccomanda l'abate di essere rigoroso e dolce non raccomanda impone ti ritiro impone l'abate che è responsabile dei monaci anche dopo la morte di essere rigoroso e dolce esigente maestro amabile padre provate a voi ad essere rigorosi dolci esigenti amabili cura ogni giorno la mente con lo studio l'anima con la preghiera e il lavoro quindi lavoriamo le giuste ore il dono raccoglievamo il grano mio nonno fermava la macchina da batte per i meno giovani chiudeva la balla da un quintale si faceva il segno della croce e partiva qualcuno con un paio di vacche lo portavano alla comunità la prima balla di grano non l'ultima questo è il grande tema e noi dobbiamo riscoprirlo rivalutarlo posso rompere gli schemi c'è una domanda dall'audience mi farebbe piacere che è più difficile questa signora alza prego quante finestre hanno i suoi operai le finestre noi abbiamo tutte finestroni così e poi c'è una tenda che secondo come vi era il sole la tiri giù ma sai abbiamo un laboratorio bellissimo cento persone laboratorio a me la fabbrichetta che fa giacche e ha chiesto un consulto a due americani ha detto che quelli che facevano le asole che è il lavoro ripetitivo dell'umanità l'ha messi davanti a un muro che così producono di più io ho detto sti cornuti che non sono altri richiamali mettiti tu davanti al muro abbiamo aperto tutte finestre così seriamente è un altro modo di lavorare ma perché non proviamo a dare agli altri quello che noi vorremmo al lavoro io ho visto mio babb tornare con gli occhi lucidi aveva 40 anni 42 e diceva che cosa ho fatto io a Dio per essere umiliato ho avuto una telefonata che posso dirle che mi fa anche piacere perché io vengo da una cultura socialista il mio nonno il mio babb potrei fare la presidente la Meloni Giorgia Meloni mi dice il tu ti posso dare il tu se la presidente se mi dai del tu tu mi ha detto si anche divertente perché mi piace scherzare mi ha detto ma che consiglio mi dai ascolta io faccio le maglie se dovevi fare una maglia ti posso dare un consiglio gli altri posso dare questa è l'altra grande massima però io do il consiglio che lo do a tutti cerca di essere ancora più garbata più gentile più educata più tutto che vale per tutti questo guardate che questo ce lo insegna la cultura benedettina o anche francescana no? quando Francesco è considerato San Francesco è considerato genio dei rapporti umani da Tommaso da Celano quando muore Tommaso da Celano gli fa la biografia lento all'ira rapidissimo nel perdonare naso aquilino non molto altro sapete come finisce? fra i santi il più santo fra i peccatori uno di loro possiamo stare insieme con un'azienda che va meno bene una va bene con una persona più carina una meno carina io tutta sta gente arrogante a me me frega niente perché mi diverto anche a mandarle a quel paesino e fai anche i scherzi a quelli un po' saccenti mi piace molto allora vi dico questa che è importantissima per voi giovani allora andiamo a Santa Margherita arriva un giovane industriale io ti devo presentare ti devo presentare una ragazza che ha preso 110 l'oro è un genio presentami sta ragazza sì 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 parlava veloce sì sì e parlano veloce perché hanno studiato e noi siamo tonti no? allora arriva sta ragazza allora io ma sai sono tornato dalla Cina a tre anni parlano il cinese ma come cazzo fanno a parlare il cinese sai che mi ha risposto loro studiano ciao tu quanto hai studiato sotto un'altra ma lascia stare porca mese ma perché se tu hai studiato un po' più mi devi far pesare che io ho studiato un po' meno e l'intelligenza dell'anima un'ultima domanda dai ragazzi forza abbiamo già due spaghettini veri eh va bene prego fa me la bella la domanda me la fa San Francesco parlava di perfetta Letizia per lei la perfetta Letizia che cos'è? la domanda è bellissima ti ringrazio la perfetta Letizia è ciò che diceva San Francesco sta insieme rispetta ogni essere umano lui ha scritto praticamente il primo testo cioè nel Aristotele comincia fino a l'Obs e Jean-Jacques Rousseau fanno scrivono il contratto sociale giusto tra esseri umani San Francesco nel 1002 fa il contratto sociale con il creato la luna la terra il sole gli animali ecco il vivere secondo Letizia ripreso anche dal Papa con la laudato sì fammi fare una citazione pure a me bella la domanda grazie troviamo a vivere Letizia anche con qualche sorriso e con qualche scherzo perché non si scherza più dice ma scherzi mi ha muovi dice ma su fai troppi scherzi e vi dico l'ultima perché questa di qui siamo andati in America non ne potevo più ero a Dallas questa mia giornalista ma ha fatto due cose col fuso orario col patista comincia alle 6 e mezzo 7 alle 9 e 3 quarti dove manda cena lei mi deve dire la sua giornata ideale gliela dico guardi mia moglie era lì io marzo alle 7 e mezzo faccio una bellissima colazione conto i soldi e torna a letto alle 1 mi sveglio mangio i rigatoni al pomodoro che è la mia passione e può andare al lavoro fino alle 5 e mezzo e mia moglie mi dava le comitazioni sta zitta ha scritto che io faccio colazione conto i soldi e torna a letto mi sono divertito l'amore adesso al barrettino una sera gli dici che fai domattina domattina manco conto i soldi vado direttamente dormo direttamente fino a luna grazie 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 Brunello Cucinelli capitalismo umanistico grazie mille grazie mille sono troppo gentile troppo poche domande grazie mille grazie mille grazie mille Grazie a tutti.